e bella a tutti ragazzoli bentornati sul canale col vostro alebegno86 oggi siamo qui come potete vedere con i vostri occhi ve l'avevo accennato e l'ho fatto ho preordinato fifa 2023 potete vedere il countdown lì tra 13 giorni passerò alla concorrenza chi ha visto l'ultimo video in tantissimo l'hanno visto e vi ringrazio abbiamo chiuso con i football abbiamo chiuso la community football fan club italia tra poco piano piano la svuotiamo sono qui perché in primis vi volevo ringraziare a tutti perché da quello che ho capito ci sono tanti pensari che sposano la mia stessa linea di pensiero grazie ai like ai commenti e io cosa mi aspettavo sono sincero io cosa mi aspettavo mi aspettavo che un canale piccolo canale umile canale il mio canale che ha sempre portato i football che ha sempre portato pesce il proprietario io me ne esco dicendo in un video addio conami addio ai football addio community facebook la gente che su quel canale in teoria pensavo che se ne andasse giustamente non puoi biasimare una scelta del genere e invece ho trovato un riscontro evidentemente pieno di gente che apprezza la mia coerenza e esposa la mia stessa linea di pensiero che quel video è stato visto e apprezzato e io per questo vi voglio ringraziare perché da lì invece di arrivare le disiscrizioni mi sono arrivato un botto di iscrizioni e io per questo volevo dirvi grazie poi in seconda cosa non vi volevo lasciare così perché non mi piace io vi volevo lasciare che in primis volevo metterci la faccia ragazzuoli non posso perché non ho la cam e quindi non posso metterci la faccia e poi vi volevo lasciare come tutto era iniziato e come era iniziato cinque anni fa chi c'era se lo ricorda c'era il socio che era in live e io ho interagito nei commenti e sono andata a fare un amichevole con lui in quell'amichevole ci siamo divertiti a suon di skill gol e risate e quindi ragazzuoli vi voglio lasciare così perché tanto so che le apprezzate le mie gol e skill compilation con la musica tamarrissima i gol sono pochi perché i football 2023 era appena uscito però io ci tengo a lasciarvi così voglio che il mio ultimo video su pass sui football sia questo e quindi ragazzuoli buona visione un saluto a tutti dal vostro albegno 86 ci vediamo a fine mese con fifa 2023 ciao bedazzi ciao 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 Ciao